Dopo il pareggio ottenuto contro la capolista, l'Avellino a gran completo è tornato al lavoro sul sintetico del partenio Lombardi. Sotto gli occhi vigili di mister Piero Braia, il trainer Maremmano insieme allo staff tecnico ha diviso il gruppo in due blocchi. I calciatori, scesi in campo contro il Bari, hanno lavorato con una seduta di scarico, gli altri invece hanno sostenuto un'intensa seduta culminata poi con una partitella in famiglia a campo ridotto. Prima della sgambata, atleti e allenatore si sono riuniti in sala video per esaminare cosa ha funzionato e cosa non nel match di ieri sera. In vista della gara contro la Vibonese di domenica, Braia sarà squalificato. Al suo posto in panchina ci sarà il suo vice Domenico De Simone. Intanto domani, giorno dell'Immacolata Concezione, allo store ci sarà l'evento Addobba l'Albero coi Lupi. I tesserati dell'US Avellino dalle ore 10.30 alle 12 insieme ai tifosi bianco-verdi renderanno unica la giornata per eccellenza con cui inizia definitivamente l'atmosfera del Santo Natale.